Un po' di batterie vanno ricaricate e poi ci sono un po' di acciaccati, quindi è bene avere una settimana di sosta per recuperare tutti, andare sabato contro la San Giovannese con più persone disponibili. Dopo una striscia positiva era bene continuare il cammino. Le sensazioni sono buone, visto le ultime partite che abbiamo giocato. Sicuramente saranno toste, a partire già da sabato con la San Giovannese. Poi abbiamo i due sconti diretti, uno in caso, uno fuori con i pretendenti per primo posto e play-off, però noi puntiamo al piazzamento migliore per i play-off. Ormai non ci pensiamo al primo posto, pensiamo ai play-off e basta. Anche prima eravamo uguali, sicuramente nelle difficoltà e nei momenti peggiori i giocatori si uniscono e danno il meglio di se stessi. Magari prima pensavamo al primo posto, poi vedendo le partite che non andavano molto dritte ci siamo compattati e sono venuti i risultati. I giocatori che c'erano prima, che ci sono ora, sono bravi, identi. Sicuramente quando viene a giocare Arezzo, soprattutto in un campionato di Serie D, ti aspetti un gran campionato. Però sapevamo che la Serie D è un campionato molto molto difficile, ci sono campi ostili e poi soprattutto quando vengono a giocare contro di noi danno il mille per mille. Quindi sapevamo che non era facile e appunto abbiamo visto sulla nostra pelle che non è stato facile. Veramente all'inizio è stato un po' traumatico, ho fatto tutta la preparazione e poi ho avuto un po' di problemi al tendine. Mi sarebbe piaciuto essere più partecipi e aiutare la squadra, però purtroppo i problemi fisici ci sono. Niente, fino ad ora diciamo un 50% do a me stesso. Poi valutiamo a fine campionato queste ultime dieci partite. L'apporto dei tifosi a Arezzo, essendoci stato anche diverse volte a tifare l'Arezzo, è una cosa importante. Come in tutte le piazze, chiaramente quando le cose vanno male, giustamente la gente fa fatica a venire, il tifo comincia a scarseggiare. Però noi tutte le partite cerchiamo di dare il massimo e lo stiamo facendo vedere ultimamente. Quindi speriamo di far tornare la gente a tifare l'Arezzo qua allo stadio.